Ben trovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpal. L'arrivo di una perturbazione provocherà tra oggi lunedì e domani martedì un peggioramento delle condizioni meteo con piogge temporali, esaurimento dei fenomeni dalla serata di martedì, mercoledì ritorno del sole per una decisa rimonta anticiclonica. Il dettaglio oggi lunedì 13 marzo dal pomeriggio nubi compatte su tutta la regione e piogge. Anche a carattere diffuso venti deboli o moderati orientali in rotazione da sud in rinforzo la sera, mare mosso localmente molto mosso in serata, temperature massime in diminuzione lungo la costa intorno 16-17 gradi nelle zone interne tra 14-16 gradi, domani martedì 14 marzo nella notte di primo mattino piogge temporali, esaurimento dei fenomeni e ritorno del sole da ponente con cielo ovunque sereno in serata, venti meridionali in rotazione da nord, forti rafficati, mare molto mosso localmente agitato la sera levante, temperature minime in calo lungo la costa tra 12-16 gradi nelle zone interne tra 5-8 gradi, massime in aumento lungo la costa tra 14-20 gradi nelle zone interne tra 12-17 gradi, dopodomani mercoledì 15 marzo bella giornata di sole appena disturbato dal passaggio di nubi alte e sottili nel pomeriggio, venti da nord localmente forti con rinforzi e raffiche al mattino, deboli la sera, mare molto mosso localmente agitato, levante in calo fino a poco mosso o mosso, temperatura in lieve diminuzione lungo la costa intorno 11-12 gradi nelle zone interne tra 3-5 gradi, massime lungo la costa tra 16-19 gradi nelle zone interne tra 12-15 gradi. E' tutto, seguite gli aggiornamenti su arpal.liguria.it, sulla pagina facebook di Arpal, sul profilo Instagram dell'agenzia e ricordate di scaricare l'app Meteo 3R disponibile su Google Play e Apple Store. A risentirci!